oggi cuciniamo le canoce bollite ok faremo la ricetta questa qui è con il corallo che vedete queste quattro striscioline bianche e questa qui che non ha le striscioline bianche è senza corallo ok comunque andiamo a cucinarle lei capò mettiamo sale in una pentola con acqua che bolle aggiungiamo le canoce e le facciamo bollire per 5 minuti poi le leviamo e le mettiamo in una bulk con del ghiaccio così li blocchiamo la torta come si pulisce la cicala di mare giriamo la cicala di mare e troviamo le sue zampette tagliamo bene tutte e facciamo un bel contorno con una bella forbice resistente al suo carapace e dal giù verso il su ritiriamo via il suo cuscita guardate che spettacolo dopodiché le mettiamo in una bella pirofile e aggiungiamo un po' di sale pepe, limone, una fila d'olio d'extravergine e prezzemolo che arriva il momento più bello e assaggiamo buono buono